Amici nel mio viaggio a Roma bentornati! Buon venerdì! Anche se io sto facendo questo video saranno le 4 o le 5 del pomeriggio e quindi è quasi fine giornata. Vi faccio vedere cosa mi sono comprato per Natale. Guardate eh! Ecco qui! Mi sono comprato questo splendido maglione che si accendono anche le luci. Qui infatti c'è scritto con effetto lampeggiante anche se io mi sono sbagliato perché ne volevo uno dove avevo letto con effetto musicale anche. Va bene non fa niente. Questo mi piaceva il disegno. Adesso ve lo tiro fuori così vediamo come si accende. Eccolo qua. Ah vi dico subito quanto l'ho pagato. Questa è stata un'offerta. L'ho comprato alla Lidl che aveva tutti questi articoli. L'ho pagato tipo 11 euro e 99 centesimi. niente è semplicissimo. Clicco qui e si accendono. Guardate! Non so se si vede l'effetto. Carino vero? E' divertente per stare in famiglia in allegria. A me piacciono tantissimo queste cose. Era da tempo che lo desideravo comprare ma non avevo mai avuto l'opportunità. e adesso mi sono tolto questo piccolo sfizzetto. Adesso lo voglio aprire due secondi. guardate che bello. Veramente bello. non lo so ma questi questi oggetti maioni calzini ho comprato dei calzini anche per mia moglie e mia figlia sempre in stile natalizio. A me queste cose anche se sono oggetti materiali però queste cose hanno sempre mi hanno sempre suscitato un legame un legame familiare. quindi per stare in compagnia e creare un clima di allegria va benissimo. Questa è la marca Livergy. Io ho preso la XL però c'erano anche altre misure. ecco qui. Spero che la sorpresa vi sia piaciuta e che il video anche anche se è una cosa semplicissima. e vi aspetto nei prossimi. Ciao.